La dotazione di personale infermieristico presso diversi presidi e ambulatori dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento viene potenziata con l'immissione in servizio di 19 nuovi professionisti. Il provvedimento con il quale la direzione strategica dell'ASP ha deliberato il conferimento di 18 incarichi a tempo determinato e di una supplenza all'obiettivo di incrementare l'efficienza operativa dei servizi e far fronte alle criticità dell'attuale carenza organica. Il nuovo contingente di collaboratori professionali sanitari infermieri sarà variamente distribuito tra le diverse strutture aziendali. Sei infermieri andranno ad integrare gli organici del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, altri due sempre a Sciacca, saranno in forza al distretto sanitario di base. Due unità verranno destinate al reparto di ospice e clinica del dolore dell'ospedale di Agrigento, cinque al dipartimento di salute mentale presso le unità operative di Sciacca e Agrigento, mentre i restanti quattro incarichi incrementeranno la dotazione di personale in servizio a Ribera, due presso l'ospedale Fratelli Parlapiano e due al distretto sanitario di base, nessun nuovo infermiere a Canicattia al Barone Lombardo. I nuovi contratti avranno durata sino al 31 dicembre, ma potranno cessare anticipatamente qualora l'azienda ruolasse nuovo personale a tempo indeterminato attraverso le diverse modalità d'assunzione previste dalla normativa vigente.